Ave Nulliput, un viale alberato con il giardino in mezzo come portano i cani. Qui c'è una strada di portata fatta da Edmund Valladares. Questa è la casa dove nacque nel 1914 al 116. Vicino c'è un fioraio molto bello, di lusso, Catleia, e poi un ristorantino che si chiama Dintemporelle. Lui stava al secondo piano, ovviamente qua. E' alla fine della Venulliput, davanti a una piazza dove c'è una chiesa. E' qui con i lampioni. Ecco, il 116 Easy. Lì è nato. Cortata. Questa è la portola di Porto. Ragazze di Fiori e il ristorante Cotendino Russo. Questa è inizia. Grazie.